la cosa più interessante a mio modo di vedere che gli psico oncologi sono stati molto utili anche per lo staff sia i medici che il personale sanitario non medico cioè gli infermieri e gli operatori sanitari spesso fanno colloqui con gli psico oncologi tanto è vero che abbiamo destinato una stanza lontana dal reparto di questi che ci hanno concesso per questi colloqui ecco devo dire che l'importanza della psico oncologi valuto anche in questo sia il personale medico che quello non medico con questo tipo di supporto serve aiuto hanno un rischio di burnout più basso in base alla mia esperienza l'oncologo clinico spesso non è la persona più adatta a cogliere i segnali probabilmente li coglie quando ci sono i colloqui con i parenti con il caregiver ma lì forse troppo tardi perché nel momento in cui un caregiver si pone nell'ottica di parlare con il medico non soltanto dalla parte clinica cioè dei risultati le tossicità dei vantaggi e degli svantaggi ma anche scusate della parte psicologica è molto avanti il processo di deterioramento psicologico del paziente chi se ne accorge per primi sono gli infermieri chi invece va in crisi spesso è il il caregiver il compagno che ha dei momenti di abbandono ma anche dei momenti di rifiuto della malattia questi momenti di rifiuto spesso ci concretizzano un abbandono della coppia può essere utile anche un supporto cartaceo da consegnare ai pari ai pazienti e caregiver perché spesso loro non sanno neanche che c'è un servizio di psico oncologia spesso forse mettendoli di fronte a questo si rendono conto che ne hanno bisogno magari chiedono a chi è vicino a loro medico infermiera che sia se c'è la possibilità di fare questi colloqui quindi può servire da input per aprire una strada perché è importante spiegare bene alle pazienti l'utilità delle cose che facciamo per esempio la cosa più frequente che mi ricordo in questo momento e quando nella terapia adiuvante cioè di prevenzione di una donna in premenopausa noi consigliamo la messa in menopausa appunto che è un momento delicato comunque ma molto utile da un punto di vista terapeutico e va spiegato con una certa accortezza perché per una donna andare in menopausa magari quando c'ha 30 anni è comunque una limitazione alla sua sessualità oltre aver subito una limitazione alla sessualità o l'asportazione per esempio in una parte del seno questo è importante raccontarlo bene che è una situazione transitoria che è utile oppure nelle donne più avanti più ageli età molto vicine alla menopausa fisiologica spiegare che questa cosa può essere evitata questa inenzione mensile andando in menopausa indotta da un punto di vista chirurgico sono tutte situazioni che hanno bisogno di un po di tempo per la cura e purtroppo e questo è il grosso problema il tempo per la cura e gli spazi per la cura in oncologia non bastano più e per questo io rivolgo e continuo a rivolgere appelli a chi ci amministra che devono avere un'attenzione particolare verso questa fragilità di base e verso questo incremento di tumori perché noi abbiamo bisogno di spazi e di tempo e quindi di più personale attenzione all'unfino a